Sono tornati ad allenarsi ma devono ancora elaborare la perdita di Manuel Lorenzo Untube, il sedicenne promessa del calcio padova, i compagni dell'Under 17 che domenica non scederanno in campo per la partita di campionato. Luttò il braccio per tutte le altre formazioni biancoscudate nelle sfide previste. Aveva solo 16 anni Manuel Lorenzo Untube. La sua vita è stata spezzata nella serata di mercoledì alle porte di Ferrara, la città dove viveva con la famiglia. Era in bici con un amico quando verso le 20.45 è stato travolto e ucciso da un 37enne del posto, fuggito senza prestargli soccorso. L'uomo rintracciato dalla polizia locale è stato indagato. Per lui la magistratura non ha ritenuto fosse necessario l'arresto. Un incidente su cui si sta cercando di fare piena chiarezza. La prossima settimana sarà affidato l'incarico per l'autopsia e saranno nominati i periti per gli esami tecnici. Accertamenti fondamentali per cercare di capire cosa sia accaduto in quegli istanti maledetti costati la vita a Manuel Lorenzo.